Il sogno rosa torna all'ombra delle colonne doriche, il centro della città dei tempi sarà il cuore pulsante della quinta tappa del Giro d'Italia. Da piazza Vittorio Emanuele domani alle 13.20 si parte per Agrigento Santa Ninfa. A dare il via alla carovana dei ciclisti sarà il sindaco Lillo Firetto che poco prima riceverà sul podio i direttori di gara. E intorno alle ore 11 prima dell'esibizione dei gruppi folcloristici il Val d'Acragas e i fiori del Mandorlo. In tutto si tratta di 153 chilometri di un percorso pianeggiante passando dalla Valle dei Templi e proseguendo lungo la costa. In provincia di Agrigento toccherà sia pure sfiorando le Porto Empedocle, Siculiana e Montallegro. Attraverserà la città di Sciacca. Quella di domani è la seconda tappa sulle strade siciliane. E triste tuffo nel passato con la rievocazione della tragedia del Belice. La splendida valle della provincia di Trapani, 50 anni fa, venne devastata da un violento terremoto che portò morte e distruzione. Il Giro d'Italia ha prodotto ad Agrigento la prima volta nel 1965, vittoria di Carlesi. Poi nel 1993 si impose il danese Risse e nel 2008 ricò. Agrigento è stata sede della prova dei professionisti su strade dei mondiali, 1994, di ciclismo, vinta dal francese Luc Leblanc, davanti a Claudio Chiappucci e Riccardi Virenc. Santa Ninva è all'esordio come città ospitante del Giro d'Italia. Ricordiamo che domani infine le scuole della città resteranno chiuse e il traffico veicolare rimarrà chiuso nelle zone interessate dalla manifestazione, dalla sette del mattino alle sette di sera. Grazie a tutti.